Maestro David Gheringas, anche per lei un ritorno al Festival Pianistico Internazionale. Aveva già suonato questo pezzo poi? Questo pezzo abbiamo suonato con il maestro Orizio molti anni fa, forse 25 anni fa, con Opitz e Hirschhorn. Questa è un'esperienza incredibile, è possibile sentire in YouTube. Che cosa pensa del Festival Pianistico Internazionale come manifestazione? Come manifestazione è una cosa eccezionale, ma io ho sempre pensato solo per pianisti arrivare a suonare in questo festival per strumentisti come velociristi, quasi un possibile, non possibile, ma io sono arrivato adesso la quarta volta, allora sono molto felice di partecipare con i miei amici pianisti in questo festival. Lei suona con Ian Fountain e Salvatore Accardo. Con Ian Fountain condivide anche un'amicizia. Con Salvatore Accardo è la prima volta? Suoniamo prima volta, ma noi siamo colleghi all'Academia Chigiana a Siena, già 10-11 anni lavoriamo insieme. E anche io ho suonato prima volta con Salvatore Accardo, credo 77, in questo momento, no 76. Io ho stato il primo velocello dell'orchestra di radio a Hamburgo e lui è stato solista. Da questo momento conosciamo, sì. Come è suonare con la filarmonica del festival? È un'orchestra nata da pochi anni ma che sta crescendo. Sì, prima è stato l'orchestra da molti artisti, professionisti da diverse orchestre, così adesso si sente un'orchestra che sempre suona insieme. Forse si cambia anche, ma i giovani strumentisti sempre hanno un'energia molto speciale, così è un grande piacere. Grazie a tutti.